ciao a tutti e bentornati a pillole di storia combo italia chi ha visto the wall for wall street avrà sentito citare il cosiddetto sistema ponzi cioè un sistema per avere dei guadagni illeciti ovviamente truffando le persone che consiste nel promettere loro dei guadagni enormi in cambio ovviamente di denaro del prestito di denaro e ripagare quelle stesse persone utilizzando il denaro che proviene da nuovi investitori la cosa crea un gigantesco sistema per cui chi al vertice della piramide cioè ovviamente il truffatore e i suoi amici sono in grado di raccogliere grandi quantità di denaro praticamente senza fare niente se non una gigantesca campagna pubblicitaria questo sistema chiamato appunto sistema ponzi prende il nome da un immigrato italo americano chiamato carlo ponzi che all'inizio del novecento attorno al 1920 si fece una gran nomea di truffatore in america proprio creando il primo sistema di questo tipo che da lui prese il nome questa ovviamente che vi sto andando a raccontare e la sua storia una storia che ho scoperto grazie ad emanuele il ragazzo che si sta occupando peraltro anche delle pidole legate allo spazio una storia che come al solito vi invito a seguire con me e se non volete perdervi le prossime pidole di storia iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella sarete sempre aggiornati ogni volta che esce un nuovo video le informazioni sulla vita dell'infanzia di carlo ponzi sono in effetti difficili da raccogliere anche perché lui stesso ha creato tutta una serie di storie fittizie legate alla sua gioventù che servivano proprio a crearne l'immagine di uomo di commercio uomo intelligente preparato a tutto quello che pare però che nacque nel 1883 a lugo vicino a ravenna fece molti lavori lavorò nelle poste si iscrisse all'università peraltro lui stesso disse senza mai frequentare particolarmente e nel 1903 rimasto senza un soldo decise di emigrare negli stati uniti lui stesso scrisse che quando arrivò negli stati uniti a boston aveva con sé solamente due dollari e mezzo ma un cervello molto fino che gli permise di imparare l'inglese molto in fretta e di trovarsi un lavoro come cameriere viaggiando lungo la east coast qui però iniziarono i primi problemi perché evidentemente non gli bastavano i proventi del lavoro di cameriere ma iniziò anche a rubare qualcosina dai negozi dove dai bar dove lavorava nonché a truffare queste le sue prime truffe a truffare i clienti sul resto scoperto nel 1907 decise di fuggire in canada montreal per evitare altri problemi e qui incontrò un truffatore esattamente come lui arrivato in canada infatti iniziò a lavorare per la cosiddetta banca zarossi gestita da tal luigi zarossi anche lui peraltro di immigrato italiano arrivato in canada il quale raccoglieva denaro dagli altri immigrati italiani promettendo loro di ripagarlo con degli interessi del 6 per cento anno interessi enormi per oggi ancora e anche per l'epoca interessi che ovviamente non aveva alcun modo di ottenere legalmente ma che semplicemente ripagava dando loro i soldi che venivano versati da nuovi correntisti praticamente uno schema ponzi antelitteram la cosa crollò molto rapidamente anche perché le persone che potevano investire erano scarse e lo stesso zanossi fuggì con la cassa abbandonando lì tutti i correntisti senza più un soldo e abbandonando il nostro ponzi il nostro carlo ponzi e anche la famiglia peraltro tutti i mollatili mentre lui fuggiva con il denaro ponzi rimase altri anni tre anni in canada fece degli assegni falsi venne arrestato per la prima volta e si fece tre anni di carcere dopodiché decise di tornare dagli stati uniti ma anche qui venne arrestato questa volta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalmente tornò a boston e qui conobbe e sposò una ragazza e nel 1918 scrisse un piccolo libro in cui parlava della sua esperienza di commerciante dava dei consigli su come mettere su un'impresa su come mettere su il commercio su come guadagnare dei soldi questo libro in realtà non vendette moltissimo ma gli fece fare l'incontro che svoltò la sua carriera pare infatti che una piccola ditta spagnola fosse interessata proprio alla traduzione del libro e alla vendita in spagna e per questo avesse inviato allo stesso ponzi una lettera in cui chiedeva informazioni proprio sul libro stesso all'interno della lettera vi era un buono internazionale un buono che veniva utilizzato all'epoca per sostituire i francobolli perché perché se io mi trovavo in spagna e mandavo una lettera negli stati uniti ovviamente dovevo mettere dei francobolli spagnoli ma se volevo invogliare il mio destinatario a rimandarmi una risposta come in questo caso in cui alla ditta interessava una risposta da parte di ponzi dovevo fornirgli i francobolli per poterlo fare ma ovviamente negli stati uniti non avrebbero potuto utilizzare i francobolli spagnoli né io in spagna avrei potuto comprare dei francobolli statunitensi e quindi come fare c'erano questi buoni internazionali che potevano essere comprati in ogni stato e poi in ognuno degli stati che avevano questo accordo essere convertiti in francobolli quindi io in spagna compro un buono internazionale lo mando a te negli stati uniti che lo converti in francobolli statunitensi e mi mandi la risposta la cosa affascinò ponzi anche perché ben presto scoprì che questi buoni internazionali avevano valori diversi a seconda dello stato che li emetteva cioè tutti i buoni valevano un certo numero di francobolli ma il costo di quei francobolli variava da stato a stato ad esempio i francobolli che in spagna potevano essere acquistati per 10 centesimi negli stati uniti valevano invece 15 20 centesimi quindi spendendo 10 centesimi in buoni in spagna negli stati uniti si sarebbero potuti comprare francobolli per un valore di 15 20 centesimi rivendendoli ottenendo così un guadagno molto alto 50 quasi il 100 per cento di guadagno la cosa ovviamente gli piacque e capì ben presto che poteva sfruttarla anche perché all'epoca in europa siamo nel 1920 alla fine della prima guerra mondiale l'inflazione stava galoppando e quindi i rapporti economici tra gli stati erano molto varie potevano essere sfruttati peraltro con un meccanismo che non aveva nulla di illegale perché seppur permetteva di avere grossi guadagni in realtà non era illegale ma era permesso delle autorità che avevano firmato gli accordi per questo trovò un un accordo con alcuni uomini in italia invogliandoli a comprare appunto questi buoni internazionali spedirli negli stati uniti dove lui li convertiva per poter ampliare questa questa sua questo suo traffico convince amici e parenti a prestagli dei soldi e nei primi mesi la cosa funzionò benissimo tanto che il suo capitale crebbe 3000 20 mila dollari e alla fine quando le voci di quello che stava facendo iniziarono a diffondersi moltissime persone da tutto l'est degli stati uniti iniziarono a pagarlo per entrare in questo sistema i soldi iniziarono ad arrivare copiosissimi tanto che a un certo punto riuscì addirittura ad acquistare letteralmente una banca per poter gestire il flusso di denaro ovviamente ponzi incamerava parte di questi soldi li utilizzò per comprarsi una villa per comprarsi macchine per farsi pubblicità diffondendo sempre di più la notizia di quello che stava facendo la cosa che sembrava meravigliosa è che questo schema come già detto era perfettamente legale certo era una speculazione sfruttava l'inflazione ma non era illegale era perfettamente legale tanto che a un certo punto alcuni giornali iniziarono addirittura loro stessi a pubblicare la notizia facendo ulteriore pubblicità a ponzi stesso ad un certo punto però qualcosa iniziò a traballare alcuni iniziarono a richiedere i soldi a ponzi che però si affrettò a pagarli anche per non farsi cattiva pubblicità alcuni iniziarono a porre dei dubbi su come avesse potuto lui spiantato con un passato delle patrie galere costruire così rapidamente un impero così grande ad un certo punto però qualcuno fece i conti e fece dei conti molto semplici fece i conti di quanto denaro ogni mese ponzi raccoglieva fece i conti di quanto sarebbe servito per gestire una così gigantesca mole di francobolli e i conti non tornavano innanzitutto non tornavano per i guadagni perché noi abbiamo finora calcolato dei guadagni standard se io compro un francobollo a 10 lo rivendo a 20 ovviamente guadagnerò il 100 per cento però questo francobollo deve arrivare da me e ovviamente quello è un costo in più io non potrò vendere quel francobollo a 20 perché nessuno me lo comprerà dovrò venderlo un pochettino a meno quindi i guadagni saranno probabilmente minori inoltre i francobolli valgono poco quindi sarà necessario pagare molte persone per fare questo lavoro e questo riduce ulteriormente i guadagni e poi come detto c'è il problema dei numeri perché per poter muovere dei guadagni così grandi serviva che quei buoni internazionali di risposta fossero 120 milioni ogni anno un numero esorbitante e assolutamente non realistico dato che negli stati uniti erano stati convertiti nell'anno precedente non più di 27 mila buoni insomma tutto quel denaro che ponzi diceva di avere da dove proveniva ovviamente come avete immaginato non provenivano più da quei buoni che ponzi a un certo punto aveva messo da parte dato che gli servivano solo più per farsi pubblicità ma provenivano da ciò che i nuovi correntisti i nuovi investitori gli davano ponzi inizialmente cercò di negare tutto cercò di dire che non era vero che il suo non era un sistema inizialmente iniziò anche a ripagare coloro che gli chiedevano i soldi indietro ma ben presto tutto il sistema crollò venne arrestato per truffa il nome dello schema ovviamente prese il nome da lui schema ponzi si fece tre anni di galera scontandone a cui venne mandato in galera per tre anni scontandone due e quando uscì si diresse in florida qui peraltro stava attendendo il risultato di un nuovo processo ma visto che il lupo perde il pelo ma non il vizio anche qui venne arrestato per delle nuove frodi legate a dei terreni insomma una cosa diversa e venne nuovamente arrestato e condannato chiese al presidente degli stati uniti di essere rispedito in italia lui che dopo tutto era cittadino italiano e non statunitense ma la grazia gli venne rifiutata scontò alcuni anni negli stati uniti e poi venne rispedito in italia alla fine degli anni 30 tornato in italia cercò di fare delle nuove truffe cercando di mettere su un nuovo sistema ponzi ma anche qua venne scoperto e venne temporaneamente incarcerato una volta uscito trovò lavoro presso delle compagnie aeree che intrattenevano dei rapporti con il brasile rapporti che però con lo scoppio della guerra e l'entrata in guerra del brasile contro l'italia ovviamente vennero interrotti gli ultimi anni li passò a rio de janeiro povero e abbandonato da tutti alla sua morte venne trovato un manoscritto dedicato proprio alla sua vita chiamato la caduta di mister ponzi un manoscritto incompleto che però tra tante fantasie ci racconta la vita di quest'uomo il cui nome rimarrà per sempre legato ad una truffa spero che questa storia vi sia piaciuta noi ci vediamo domani con un'altra pillola di storia io come al solito vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di metterne le loro opere e se volete iniziare a curiosare qui a fianco c'è l'elenco delle ipi dove uscite fino adesso noi ci vediamo domani a presto ciao ciao